Ben trovati nella cucina di ricette che passione. Oggi insieme prepariamo un piatto delizioso e veloce. Il riso al forno con le melanzane. Le melanzane non sono fritte ma hanno un gusto davvero speciale. Allora vediamo come realizzare la ricetta. E' la cottura speciale delle melanzane che le rende veramente gustosissime. In padella mettiamo un po' d'olio d'oliva, aggiungiamo dell'aglio in polvere o uno spicchio d'aglio in camicia. Aggiungiamo 400 g di passata di pomodoro e circa 300-400 g di acqua, un po' di sale e portiamo a cottura. In un pentolino sto preparando due uova sode. Le faccio cuocere 5 minuti dal bollore. Poi vado a buttare l'acqua di cottura e le copro con acqua fredda. Quando saranno tiepide le vado a sgusciare e lascio raffreddare per un po'. Intanto ho messo su anche l'acqua per il riso. Vado ad aggiungere un po' di sale, portabollore e a quel momento quando l'acqua bolle aggiungo il riso. Sono 160 g di riso arborio per due persone. Ho acceso il forno a 250 gradi ventilato e intanto vado a lavare una melenzana all'affetto sottile, circa 12 fette spesse mezzo centimetro circa. Le vado a depositare sulla leccarda rivestita con carta forno. A questo punto le spennello con olio d'oliva insaporito con agli in polvere e origano. Aggiungo anche un po' di sale e pronte da infornare, circa 15-20 minuti in forno caldo. Se risultano troppo dorate abbassa un po' la temperatura. Appena il riso è pronto lo vado a scolare. Metto in una ciotola e aggiungo il sugo di pomodoro. Ne lascio da parte solo un po'. Mi raccomando il sugo deve essere molto liquido altrimenti il riso al forno viene troppo asciutto. Sono veloce mescolata e aggiungo anche del parmigiano grattugiato. Ho affettato le uova e ne aggiungo una parte al riso. Aggiungo ancora qualche fogliolina di basilico spezzettata. Intanto sono pronte le melanzane al forno. Ne vado a tagliare a pezzetti circa la metà. Ne lascio intere almeno sei fette. Vado ad unire al riso anche le melanzane tagliate e mescolo tutto. Aggiungiamo ancora un po' di provola sia classica che affumicata. E adesso aggiungiamo ancora un po' di sugo e mescoliamo bene il tutto. Andiamo a rivestire una pirofila con metà del composto. Aggiungiamo poi delle melanzane a fette, un po' di formaggi e uova sode e andiamo a coprire con il riso restante. Completiamo con le fette di melanzane che sono rimaste. Qualche fettina di uovo e un po' di formaggi. Alla fine parmigiano è pronti ad infornare per 15 minuti a 180 gradi in forno statico. Lasciamo riposare qualche minuto prima di portare in tavola il nostro delizioso piatto, il riso al forno con melanzane che non sono fritte ma altrettanto gustose. Provatelo un po', non ve ne pentirete. Grazie alla cottura speciale delle melanzane al forno. L'effetto filante che fa sempre gol a tutti. Aumentate le dosi perché andrà a ruba. Buonissimo anche l'indomani.